Il duplice omicidio con suicidio al quartiere Le Albere a Trento, un ex carabiniere di 44 anni uscì dei figlioletti di 4 e 2 anni e poi si getta in un dirupo da Sardagna, i due corpicini trovati dalla madre nel soggiorno di casa. Il duplice e ferato omicidio è venuto all'ultimo piano nell'attico di questo stabile nel quartiere residenziale, il quartiere VIP di Trento. Gabriele Sorrentino, 44 anni, era un operatore finanziario, un ex carabiniere che lavorava da casa e in casa. Ha ucciso i suoi piccoli di 2 anni e mezzo e di 4 anni. A ritrovare i loro corpicini nel soggiorno è stata la madre veterinaria a rientro dal lavoro poco dopo mezzogiorno. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine e appunto della procura di Trento, alla base di questo delitto ci sarebbero ragioni finanziarie, unico appiglio razionale di un delitto irrazionale. Sorrentino, dopo aver ucciso i piccoli, è salito sul suo SUV, ha raggiunto Sardagna e si è lanciato nel vuoto dall'hotel Panorama. Ma ascoltiamo le parole di un vicino di casa che ci descrive una famiglia modello, addirittura una barista in un bar qui vicino nel quartiere delle Albere, ci ha parlato di una famiglia che assomigliava a quelle del mulino bianco, quindi nulla che facesse presagire la tragedia. Ascoltiamo appunto le parole del vicino che abbiamo raccolto poco dopo la notizia di questo duplice omicidio. Erano i miei vicini di casa, non li conoscevo bene, però ci si vedeva lungo i marciapiedi delle albere e si parlava del più o del meno delle solite cose, delle case dove si abitava, dove si abita. E questo Gabriele Sorrentino, lei ci parlava, lo conosceva, sapeva? Sì, persona normalissima, tranquillissima, amante dei suoi figli e della moglie perché io li vedevo sempre passeggiare insieme. Se è vero l'efferato delitto che è stato commesso, io veramente mi meraviglio perché consideravo Gabriele una persona inquilibratissima, cioè senza nessun tipo di, mai dato nessun tipo di pensiero strano. Una persona normale, amante dei bambini, di sua moglie. Allora, alle 17 c'è stata una conferenza stampa in procura a Trento per cercare di ricostruire appunto alcuni elementi, per cercare di dare una spiegazione a quello che è avvenuto oggi poco dopo un mezzogiorno nel quartiere delle albere. E a questo proposito ascoltiamo il servizio di Lucio Fava del Piano. E da questa terrazza panoramica nella frazione di Sardagna che Gabriele Sorrentino, il consulente finanziario che poco prima aveva presumibilmente tolto la vita ai suoi due figli di due anni e mezzo e quattro anni, ha deciso poi di lanciarsi nel vuoto un volo perpendicolare di oltre 150 metri che non gli ha lasciato scampo. Il ritrovamento del corpo ha permesso agli inquirenti di completare la ricostruzione dei fatti, anche perché non risultano tentativi di alterare la scena. Secondo quanto è stato reso noto, dopo che la moglie era uscita per andare al lavoro, come ogni mattina, Sorrentino è rimasto con i bambini che ha colpito morte. Poi ha raggiunto Sardagna con la sua auto. In attesa degli esami autoptici e dell'analisi di documenti e supporti informatici, alla ricerca soprattutto di un muovente, la procura è abbastanza ferma nell'affermare quello che non c'è. Non è stato trovato alcun messaggio cartaceo di Sorrentino, non risultano problemi o dissidi di tipo familiare nei precedenti disagi psichici. Non ci sarebbero stati segnali premonitori per quello che il magistrato incaricato definisce un gesto sorprendente, incontrollato e immotivato.